Abbiamo la dottoressa Cecilia Reginelli, che ringrazio aver accettato il nostro invito, che è fisioterapista, osteopata, assistente, docente, cresso, ho detto bene, e la dottoressa Chiara Argetti, che è un'altra linea, di qui. Anche quest'anno, al Centro Turistico Giovanile Vallesina, si sono svolti gli incontri su temi che riguardano la nostra salute. Il 27 maggio si è parlato dell'importanza dell'attività motoria e della prevenzione osteopatica dal momento della nascita, o ancora prima, fino all'adolescenza. Cecile Reginelli, osteopata, e Chiara Archetti, personal trainer, hanno riportato esempi pratici sul tema. All'incontro hanno partecipato molte persone, che hanno rivolto domande alle relatrici, mostrandosi particolarmente interessate all'argomento trattato. Una massima da portare a casa, il movimento è vita. che c'è la tua sp mente, si viene un'altra sana.